Bene, abbiamo visto recentemente la forza esercitata su un filo percorso da corrente immerso in un campo magnetico, oggi proviamo a fare qualche esercizio inerente a questo tema e magari anche a quello precedente. Quindi io inizierei con il proporvi questo esercizio che sono tutti molto semplici, cominciamo con l'esercizio 30 a pagina 346, leggo il testo, c'è un filo percorso da corrente, quindi con una corrente I che vale 2,8 ampere e che forma un angolo alfa di 36 gradi con un campo magnetico B che ha intensità 0,88 tesla e la lunghezza del filo L è di 2,25 metri e quindi qui abbiamo le linee di forza del campo magnetico, questo è B, il magnetico omogeneo orizzontale, qui c'è il filo, fatemi disegnare che ne so in rosso, questo è il filo con la corrente I e l'angolo che il filo forma col campo magnetico alfa e 36 gradi. L'esercizio chiede qual è l'intensità della forza che agisse sul tratto di filo immerso nel campo, cioè sui 2,25 metri, qui è sufficiente applicare la relazione che abbiamo visto a suo tempo, la forza dovuta essenzialmente alla forza di Lorenz sul filo vale il valore della corrente I per un vettore associato al filo L orientato come la corrente è immersa nel campo magnetico, moltiplicato vettorialmente per B, campo magnetico, quindi l'intensità della forza FL vale ILB per il seno di alfa. Quindi qui è sufficiente applicare direttamente la forma, non dobbiamo fare nessuna elaborazione particolare, quindi la forza sul filo vale 2,8 ampere per 2,25 metri che è lunghezza del filo, per il campo magnetico 0,88 tesla, per il seno di 36 gradi e otteniamo circa 2,8 per 2,25 per 0,88 per il seno di 36, un totale di 3,26 più o meno newton. Ok, niente di complicato. Vediamo invece l'esercizio, se ci sono domande? Tutto chiaro? Semplice no? Cioè è diretto quindi. Ok, quindi vediamo un attimo l'esercizio successivo che richiede invece l'inversione della formula, è il 31, il quale chiede, in condizioni analoge, cioè ci dà il valore della forza, la forza dovuta al campo magnetico che agisce su un filo, è di 1,6 newton, la lunghezza del filo L è di 1,2 metri e il filo è percorso da una carente I di 3,0 ampere ed è immerso in un campo magnetico, un omogeneo B di 0,5 tesla. Immaginatevi il grafico è esattamente quello di prima, ci chiede qual è il valore dell'angolo formato tra il filo e il campo magnetico, quindi qui di nuovo abbiamo le linee di forza del campo magnetico, B e il filo percorso da corrente I, in questo verso. Qual è il valore di alfa? Non facciamo altro che prendere esattamente la stessa relazione di prima, la forza dovuta al campo magnetico vale I, L, B sen alfa e invertirla, quindi il seno di alfa vale la forza F fratto I, L, B, quindi l'angolo alfa è la funzione inversa del seno o arcoseno se preferite di F fratto I, L, B, quindi l'arcoseno di 1,6 newton diviso la corrente che era 3 ampere, 3,0 ampere per lunghezza del filo 1,2 metri per il campo B che era 0,5 tesla. Quindi se facciamo questo calcolo facciamo prima calcoliamo il valore dell'argomento dell'arcoseno quindi 1,6 diviso 3 diviso ancora 1,2 diviso 0,5 viene circa 0,8 periodico e questo ci dà un angolo D in gradi, arcoseno D punto 8 periodico 62,73 gradi diciamo circa 63 gradi volendo approssimare il grado ok dittimese devo tornare indietro ho citato sempre di utilizzare la formula di prima fatemela cerchiare in rossa ecco qui c'è l'espressione scalare dell'intensità della forza qui avete invece l'espressione vettoriale ok il problema è esattamente l'analogo insomma basta invertire la relazione siamo a posto invece un po più interessante è il 34 che adesso vediamo ditemi quando siete pronti ok il 34 abbiamo in parte accennato anche lavorando alla scusate non lo vedo più eccolo qui dice recuperare cosa esercizio 34 immaginate di avere una barra metallica orizzontale conduttrice quindi appesa sempre con un filo conduttore di qui arriva corrente però non sappiamo ancora il verso verso una parte della domanda e questa immersi in un campo magnetico orizzontale che nel nostro caso è entrante nella lavagna quindi è diretto dall'esterno verso l'interno quindi sono tutti con la x che indica il verso entrante vi ricordo che questo simbolo indica quello entrante mentre il tondino con la punta sarebbe uscente questo fa parte quindi quel campo magnetico b la massa della barra metallica e m ok e il campo magnetico b e vale scusate 0,65 kg 0.75 kg il valore del campo magnetico a un'intensità di 0,84 tesla ok e la lunghezza della barra l è di 3,6 metri chiede qual è l'intensità minima della corrente in modo tale che il la corrente la quindi la forza magnetica sia in grado di sollevare la barra che direggere quindi di vincere la forza peso allora in questo caso la la barra è soggetta a diverse forze abbiamo in verde mettiamo il peso il peso è diretto verso il basso poi perché affinché la cosa di lorenz la sollevi è necessario che la forza di lorenz sia diretta verso l'alto in modo tale da bilanciare il peso chiamiamola fl se il campo magnetico diretto nel verso entrante allora la l'intensità della corrente deve essere tale che il prodotto vettoriale i vettori b dice verso l'alto e questo si verifica se la corrente va verso destra qui c'è la corrente se fate i vettori b ottenete il pollice verso l'alto quindi la corrente fluisce in questo senso durante il filo va da sinistra a destra e in base alla condizione di equilibrio abbiamo quindi che la forza di lorenz deve bilanciare il peso ok quindi il valore di i per l per b qui non c'è il seno perché il campo magnetico e la corrente sono perpendicolari deve essere uguale a m per g che il peso quindi la corrente i che ci serve vale il rapporto tra il peso mg e il prodotto lunghezza del filo per campo magnetico b quindi avremo che vale la massa del campo nella barra che 0,75 kg per g che 9,81 metri al secondo quadrato diviso l che 3,6 metri per b che era 0,84 tesla da cui otteniamo allora punto 75 per 81 diviso 6 e 84 e viene 2,43 ampere circa quindi quando passa una corrente che abbia almeno questo valore la forza di lorenz è in grado di bilanciare la forza peso se invece la corrente avesse verso l'inverso la forza di lorenz anziché bilanciare il peso loro a forza cioè produce una spinta verso il basso e qui verso al peso ditemi se è tutto chiaro ok poi ce n'è un altro che mi permetteva che vedessimo insieme che è questo quello due esercizi dopo bisogna fare un disegno con una certa attenzione l'esercizio 36 il quale dice una barretta di metallo di massa m qui non dà valori numerici e lunghezza l è sospesa tra due fili conduttori come mostrati nella figura che adesso vado a copiare abbiamo la barra conduttrice ecco questa i due fili metallici i quali passa corrente qui sono corrente i dopo che passi questo verso in questo poi continuano che rispetto alla verticale i fili fanno un angolo teta ciascuno dei due e questa barra immessa nel campo magnetico b diretto verso il basso anche qui c'è un campo magnetico b omogeneo diretto verso il basso ok dice determina qual è l'angolo teta in funzione di valori di massa lunghezza della barra campo magnetico e valore della corrente i qui non so se del mio disegno è chiaro ma dovreste vedere il disegno in tre dimensioni quindi immaginate lo rifaccio qua sotto qui abbiamo il campo magnetico in tutta questa zona ok lo disegno solo negli estremi poi qui abbiamo questa sbarra magnetica di una data lunghezza l i due fili fatemi disegnare in rosso che formano un certo angolo con la verticale che all'interno della dl c'è una corrente elettrica e quindi se qui ho il campo magnetico diretto verso il basso ok questo è di se facciamo b vettore i ho una forza la disegno in nero diretta in questa direzione questa è la forza di lawrence quindi mi conviene vedere la situazione in sezione quelle di profilo proprio quindi immaginate appunto che qui c'è il campo magnetico verso il basso scusate non verso l'alto qui ho il filo la corrente entrante ok qui c'è il campo magnetico avevo disegnato in blu e il il filo a cui appeso il campo della barra è diretto in questo senso e qui sulla verticale questo angolo è teta se tenete conto dell' intensità della corrente se facciamo i vettori di questo ripeto e b allora la forza di lawrence è diretta in questo verso il vettor b direttore verso l'esterno quindi sulla sulla nostra sbarra agiscono tre forze fatemi cancellare il campo magnetico adesso perché mi interessano ragionare in termini di forze c'è la forza peso il disegno in verde c'è la tensione del filo la disegno in rosso e c'è la forza di lawrence queste tre forze se il filo in equilibrio si fanno si bilanciano quindi la forza risultante è data dalla forza di lawrence più la forza peso più la tensione del filo questo se il filo equilibrio fa zero che se questo angolo è teta allora se traccio la verticale rispetto fatemi a tracciare in ecco in verdino leggero sulla barra anche quest'angolo è teta perché perché sono angoli alterni interni delle due parallele che sono i due verticali rispetto al trasversale che è in filo quindi se il sistema in equilibrio ok quello che ci conviene fare è scomporre il sistema delle tre forze una componente orizzontale e in componente verticale e poi azzerare le risultati la forza risultante d'accordo allora fatemi rifare il disegno se posso spazio ok quindi immaginiamo che questo sia il nostro filo percorso nostra barra che cosa da corrente qui fatemi riprodurre i due assi con l'asse verticale y nell'asse orizzontale z x anzi scusate ecco adesso scriviamo le nostre forze la forza di lawrence è tutta diretta verso sinistra quindi ha una componente solo lungo x nel verso negativo poi c'è la forza peso non mi ricordo più che quello l'avevo fatta in verde scuro quella che è tutta verticale verso il basso e c'è la tensione del filo che avevo fatto in rosso ne avevamo anche visto queste t che questo angolo l'angolo che la tensione fa con la verticale è il nostro angolo cheta ora il peso p nel nostro sistema a componenti solo verticali quindi la componente x e nulla la componente y e meno mg che diretta verso il basso mentre nostra y va verso l'alto la forza di lawrence a componenti solo lungo x ma è diretta verso sinistra quindi è negativa mi avrà componente meno il lb perché il campo a dire il campo magnetico è perpendicolare alla direzione del filo percorso da corrente quindi il seno non non ci interessa ok dopodiché lungo l'asse delle y invece a non ha componenti quindi 0 e infine abbiamo la tensione t qui la tensione a due componenti sia lungo x che lungo y visto che teta è l'angolo con cui il filo il filo forma con l'asse delle y allora la componente x di t sarà t per il seno di teta perché perché la componente x quella orizzontale è il cateto opposto a teta quindi questo diventa fatto nel disegnare in rosso questa è tx e questa è t y quindi tx nel cateto opposto a teta sarà l'ipotenusa che è t il modulo del vettore per il seno dell'angolo mentre la componente y e t per il coseno di teta che il nostro angolo incognito infine la forza risultante sarà la somma di tutte queste componenti quindi sono algebricamente le varie componenti quindi o meno i lb più t sentita e meno mg più t cosentita quindi se la forza risultante deve essere nulla significa che sono 0 sia questa componente sia questa se no avere una forza risultante diversa da zero quindi da questo tengo un sistema 1 lungo l'asse delle x 1 lungo l'asse delle y in x o meno i lb più ti sentita uguale a zero e nel verso y o meno mg che il peso più t cosentita uguale a zero dalla seconda equazione da quella del verso delle x non ottengo il valore di t ti posso esprimere la come basta le porte e me già destra di video per il coseno quindi o mg che il peso diviso il coseno di teta e questo lo sostituisco nella prima se facciamo così facciamo in ordine questo la spostiamo un po più in sotto questo la cancello ecco se la componente x non questo la componente x qui lo ricopio meno i lb al posto di t posso scrivere mg fratto cosentita per sentita e questo deve essere zero quindi dalla prima equazione ottengo che mg per sentita fratto cosentita vale il b quindi il il valore della sentita su cosentita possiamo prendere come la tangente dell'angolo quindi la tangente dell'angolo teta vale il rapporto tra i lb che la forza di lorenz fratto mc che la forza peso da cui l'angolo teta sarà l'inverso della tangente quindi l'arco tangente del rapporto i lb fratto mg ed è questa la soluzione del nostro problema abbiamo espresso l'angolo in funzione delle grandezze che ci davano come note la corrente lunghezza del filo campo magnetico e massa della sbarretta ditemi se serve che ripeto torno indietro qui non chiedeva valori numerici andava solamente questo tipo di elaborazione teorica se preferita prego certo abbiamo usato semplicemente la forza di lorenz e le condizioni di equilibrio cioè il fatto che se la barretta in equilibrio la risultante delle forze applicate deve essere zero e siccome la condizione equilibrio è un'equazione vettoriale questa mi conviene proiettarla nei vari assi cartesiani avere un'equazione scalare quindi un'equazione algebrica per ogni asse nel caso lavoriamo nel piano abbiamo due componenti nex in y che tutto chiaro molto bene ok detto questo questo lo chiudiamo io vi proporrei quasi quasi di passare a un altro esercizio che avevo visto che era abbastanza carino sullo spettrometro di massa cambiamo leggermente tema c'è un esercizio 5 a pagina cos'era questa la 352 dice una miscela di due isotopi è iniettata che mettiamo l'iniettore che abbiamo due isotopi diversi iniettati in una zona dove c'è un campo magnetico quindi questa velocità di sono le due specie il campo magnetico lo prendiamo quando pensare verso l'esterno quindi ok diverso l'esterno e quindi la forza di lorenz è diretta verso il basso per cui la traiettoria delle particelle è curvata verso il basso di un isotopo fa una circonferenza l'altro ne fa una più piccola il primo ha una traiettoria circolare di raggio diciamo r1 secondo di raggio r2 abbiamo ripeto due isotopi diversi che differiscono solo per la massa quindi di uno è uguale a di due che è uguale a vicio le due risotto che sono sparati in questa zona di campo magnetico con la stessa velocità iniziale e hanno la stessa carica con un uguale a q2 che è uguale a q ma il primo isotopo fa una c con traccia una circonferenza che ha un raggio di 48,9 centimetri il secondo isotopo traccia una circonferenza che ha un raggio di 51,7 centimetri quindi qui è il contrario perché c'era e due più grande dopo lì è giusto 51,7 centimetri quindi di correggere la figura questo r1 e questo r2 ok dice calcola il rapporto tra le masse delle due dei due isotopi m1 fratto m2 ok non sappiamo né il valore della velocità né il valore della carica né il valore del campo e che d'altro canto non ci servono per quale ragione beh a monte abbiamo sempre il fatto che la traiettoria circolare è legata al fatto che la forza che costringe le particelle a muoversi in un campo magnetico lungo una traiettoria circolare quindi una forza centripeta m di quadro diviso r è data dalla forza di lawrence carica per velocità per campo le due di vanno via e quindi abbiamo mv su r che vale qb per cui r vale mv fratto qb quindi il raggio di ciascuna traiettoria a parità di velocità delle particelle e loro cariche in campo magnetico è proporzionale alla massa quindi avremo che per la prima parte specie atomica avremo per primo risotto ma avremo che r1 vale m1 v su qb per il seconda specie specie atomica secondo risotto avremo che r2 vale m2 v su qb visto che le velocità e i campi e le cariche sono le stesse r1 fratto r2 mi darà m1 v qb su m2 v di nuovo qb tutto quello che tutto retto si semplifica tranne le masse quindi mi rimane m1 fratto m2 quindi rapporto delle due masse m1 fratto m2 è identico al rapporto dei raggi r1 su r2 cioè uno era 48,9 cm e l'altro 51,7 come vedete non serve neanche che io trasformi l'unità di misura perché comunque si semplificano e otteniamo un rapporto che vale un attimo che urlano una trice 48.9 diviso 51.7 che fa 0,946 approssimando la terza decimale proprio perché tutto quello che non è la massa semplifica il resto perché è lo stesso per entrambe le particelle ok vediamo se troviamo qualche altro abbiamo ancora fatto vedere un istante cos'altro si può fare anche questo non è male proviamo anche questo mi sembra che questo avevamo già visto che questo argomento è alla nostra portata quindi proviamo l'esercizio 11 a pagina 353 qui dice c'è un filo lungo rettilineo eccolo qua un filo lungo percorso da corrente in questo verso i e questa corrente vale 14 ampere e va da sinistra a destra vicino al filo e posto una spira quadrata disegnare il quadrato questo è fatto di filo metallico che ha un lato l di un metro 2,0 metri ok e la è percorsa anche questa da corrente che vale 2,5 ampere quindi qui chiamiamola come la chiamiamo i della spira i con s nella spira percorso è percorso la corrente 2,5 ampere mentre il filo quello lungo i a una corrente di 14 ampere ed è percorsa in questo senso is ma in questo senso in senso in questo caso diremmo in senso orario ovviamente è la stessa in tutti e tre in tutti e quattro i lati del quadrato per la legge di kirkos ora dice qual è la direzione della forza risultante che agisce sulla spira giustifica la risposta e calcola l'intensità della forza risultante ok allora abbiamo visto che qui abbiamo la la nostra spira piccolina questa questa spira quadrata è immersa in un campo magnetico prodotto dalla corrente i se la corrente va verso destra per la legge della mano destra qui in questa regione viene prodotto un campo magnetico entrante ci va verso l'interno del foglio se i fosse verso sinistra sarebbe uscente ma entrante lì per la stessa ragione il campo magnetico agisce su ognuno dei quattro lati del quadrato in quello più vicino ok la forza di lorenzo è diretta lungo il prodotto vettoriale i vettori b se b entrante ok il vettore b qui la forza è diretta fatemi disegnare in verde verso il filo l'altro canto avevamo già visto che due fili paralleli con i correnti diretta nello stesso senso si attraggono viceversa nel filo opposto nel ramo direttamente opposto a questo in quello più lontano per la stessa ragione quindi i vettori b la forza elettrica qui è diretta la forza di orne scusate in direzione opposta a prima quindi qui la forza di lorenzo tende ad allontanare questo filo chiaramente siccome questo filo è più vicino tra le due più intensa la forza del filo più vicino al campo al filo lungo i grande nei due fili perpendicolari al al filo i ok cosa abbiamo beh qui se ragioniamo in termini sempre di forza di lorenzo avremo il vettore b che in questo caso il campo sempre uscente qui la forza di lorenzo è diretta lungo l'orizzontale verso sinistra e nell'altro caso il vettore b verso destra quindi queste due forze quelle laterali queste due si bilanciano quella su questo latte quella su questo danno totale nulla perché i due figli che sono la stessa distanza dal filo grande che produce il campo che hanno correnti opposte la forza totale da questi due nulla quindi ci dovremmo preoccupare solo dei due lati paralleli al filo i lungo il filo quello grande poi il disegno traccia anche le distanze diciamo così questa distanza tra il filo i lungo e il lato lontano del della spira e 1.2 metri quello vicino invece no no il lato è un metro quindi questo è 0 2 perché il lato è un metro ok quindi il primo filo quello più vicino dista dal filone grande 0 2 metri quindi 20 centimetri l'altro lato quello più a lui esattamente opposto vista 1,2 metri qui quindi andremo ad applicare che cosa beh andiamo applicare la legge che non ho visto la legge precedente che se ho due fili fatemi disegnare qui qui abbiamo due fili con corrente i1 e corrente i2 a distanza di uno dall'altro i due fili interagiscono con una forza che è data da mi zero diviso 2 pi greco la mia verità magnetica nel vuoto tra un attimo vi ricordo quanto vale per il prodotto delle due correnti uno per i due diviso la loro distanza di ricordo che mi zero valeva mi pareva cosa 4 pi greco sì per 10 alla meno 7 e tesla per metro fratto ampere ok quindi in questo caso abbiamo anziché i1 avremo i grande quindi 14 ampere i2 vale 2,5 ampere e di quindi e 0,2 casi metri nel caso del filo vicino e 1,2 metri nel caso del filo lontano che è due correnti sono apposta quindi potremmo scrivere così la la forza di lorenz che agisce nel filo vicino vale mu zero su 2 pi greco i corrente nel filo lungo per is corrente che passa nell'aspira diviso di chiamiamolo di 1 il filo vicino in quello lontano avremo la stessa struttura di 0 2 pi greco il fatto is e di 2 con di 1 0,2 metri di 2 1,2 metri ok i vale 14 ampere i nella spira 2,5 ampere qui come vedete le due forze hanno molto in comune differiscono solo per i denominatori quindi la forza netta f totale quindi è se immaginiamo come positivo il verso verso l'alto prendiamo questo come verso positivo quello verso il filo grande il filo lungo avremo quindi mi zero su 2 pi greco i is su di 1 meno mi zero su 2 pi greco i is su di 2 e questa col più è la forza attrattiva che agisce sulla lato vicino del filo dell'aspira questa è la forza repulsiva che agisce sul lato lontano essendo di 1 più piccolo di di 2 prevarà quella positiva qui possiamo raccogliere i fattori comuni che sono mi zero su 2 pi greco è il prodotto delle due correnti per 1 fratto di 1 meno 1 fratto di 2 ok quindi avremo che la nostra forza totale che è diretta ripeto verso il filo sarà 4 pi greco per 10 alla meno 7 tesla per metro su ampere diviso 2 pi greco qui avremo 1 fratto 0,2 metri meno 1 fratto 1,2 metri ok e quindi ah mi dimenticavo il prodotto delle correnti chiedo scusa qui in mezzo inseriamo ecco fatemi mettere qua sotto 14 ampere per 2,5 ampere se mi ricordo bene 14 e 2,5 sì ok allora abbiamo che vediamo il coefficiente sui due intanto si potremmo semplificare i pi grechi e il 2 quindi questo è pi greco va via con questo questo è 2 mi rimane 2 e abbiamo allora 2 per 10 alla meno 7 2 per 14 per 2,5 che fa 70 per 10 alla meno 7 e qui viene tesla per ampere per metro e poi abbiamo 1 fratto 0,2 1 scusate mi faccio 1 diviso punto 2 meno 1 fratto 1,2 e questo mi da 4,16 periodico 1 fratto metri che si semplifica con metri e quindi otteniamo alla fine un valore della forza che è pari a 2,92 per 10 alla meno 5 newton ed è attrattiva quindi circa 3 per 10 alla meno 5 newton il testo prossimo a 3 ok ci sono domande quindi la spira in pratica viene attratta verso il filo il filo quello in alto e la forza di attrazione è tanto più grande quanto più grandi sono le due correnti e quanto più vicina ovviamente la spira il filo quindi attenzione qui questo è un caso statico ma nel caso che la spira si muovesse la forza di attrazione non è uniforme perché più si avvicina più la forza è intensa ok se non ci sono domande mi fermerei qui quindi